...procedure e le dotazioni di sicurezza di questo aereo. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to pay attention to the following presentation concerning safety procedures and equipment of this aircraft. Il bagaglio a mano deve essere sistemato sotto la poltrona davanti a voi o negli alloggiamenti sopra di voi. Your hand baggage must be placed under the seat in front of you or in the overhead lockers. Allacciate la cintura di sicurezza e regolatela. Per slacciarla, sollevate l'apposita parte della sippia. Vi suggeriamo di mantenere la cintura di sicurezza sempre allacciata quando siete seduti. Fasten your seatbelt and adjust it. To release it, lift the top of the buckle. We suggest to keep your seatbelt fastened while sitting. Chiudete i tabulini e posizionate lo schienale della poltrona verticalmente prima del decollo e dell'anderraggio. Lock your tray tables and make sure that the seatbelt is in the upper right position for takeoff and landing. In caso di depressurizzazione, le maschere per l'ossigeno si renderanno automaticamente disponibili. Prendete una maschera e attivatela tirandola verso di voi. Coprite naso e bocca. Regolatela e respirate normalmente. Indossate prima la vostra maschera e poi aiutate chi necessita della vostra assistenza. La maschera per l'ossigeno funziona regolarmente anche se il sacchetto di plastica non si gonfia. In caso di perdita di pressurizzazione, le maschere di oxigeno saranno automaticamente disponibili. Activate your mask by pulling it towards you, cover nose and mouth and breathe normally. Fit your mask first and then help those who need your assistance. The oxygen mask works properly even if the plastic bag does not inflate. Tutte le uscite di emergenza di questo aereo sono indicate da appositi segnali, individuate quelle più vicine a voi. Un sentiero illuminato faciliterà il raggiungimento delle uscite. In caso di rapido abbandono dell'aereo, lasciate a bordo il bagaglio a mano. Togliete le scarpe con i tacchi alti. Scendete tramite gli appositi scivoli e allontanatevi subito dall'aereo. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. In caso di necessità, indossatelo e gonfiatelo tramite l'apposita maniglia rossa. Solo al momento di abbandonare l'aereo. Se necessario, sottiate nel tubo di gomma. Your life vest is located under your seat. If necessary, put your life vest on and inflate it by pulling the red handle just before leaving the aircraft. You can also manually inflate the vest by blowing into the rubber tube. Saranno distribuiti i salvagente per bambini. In caso di necessità, dovranno essere gonfiati prima di abbandonare l'aereo. Infant life vest will be distributed. In case of need, they must be inflated before leaving the aircraft. In caso di ammaraggio, gli scivoli potranno essere usati come battelli. Nella tasca della poltrona davanti a voi troverete il cartoncino illustrativo con le norme di sicurezza. Vi invitiamo a prenderne visione attentamente. For further information, please read carefully the safety instruction card placed in the seat pocket in front of you. Vi ricordiamo che non è consentito fumare a bordo dei nostri aerei, incluse le toilette, dove sono localizzati rilevatori di fumo. Il personale di bordo è perfettamente addestrato per fornirvi tutta l'assistenza in caso di necessità. Smoking is not permitted in any area of the aircraft, including the lavatories. All the lavatories are equipped with smoke detectors. Our crew is perfectly trained to assist you in any situation. i amm vianderti non-arriziata. All the lavatories are of courseисi vendoni e fumo. L'anno viaングone e fumo. Ancora per alla parte per al alle rifatze. Il personale di fumo. Il personale di fumo su Konferenza. L'anno via vista di al massi respiratore di un partecipitale. Il personale di aner. Il personale di ovegli or gereglie di un limbo. Per al di tutto di che nước è uscito e chiaramente nei grossanno. L'anno viaggia a fronte di e colo. Il personale di stessa in Italia vu di fumo. Il personale di s重要 di un sistema sicuro di questo momento. Il personale di lavorare a porta di fumo. Alitalia vi ringrazia per l'attenzione e si augura che il volo sia di vostro gradimento Alitalia grazie per la vostra attenzione e spero che vi divertirà il volto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti